Bro, grazie mille per le sub, ragazzi vi ricordo di entrare in gruppo Telegram, ragazzi il gruppo Telegram è fuori di testa, è fuori di testa, e tra l'altro, 30 su 30 ragazzi, soldi, sono come Mahmood, nero, si, sto bene, unexpected questa, pensavate alla solita battuta cringe che dicevo, non lo so, soldi, no, no, io dico, Too much content da non rubare, grazie Tegavino bicchierino per questo content rubato, e anche oggi Tegavino mangia, vedo tutto il c***o di clip, imparino tutto il c***o di home,